Nel mio mondo, nella mia disciplina, l'accadere probabilmente meglio di ogni altra cosa viene sintetizzata da un'espressione, da un termine che usava William Demet, uno dei pionieri della ricerca sul sonno, che intitolava un suo manuale, c'è chi veglia e chi dorme, indicando il bizzarro incontro di mondi legato alla ricerca del sonno. La ricerca del sonno intrinsecamente implica che c'è qualcuno che dorme, che viene studiato per questo, ma dall'altra parte ci sono nel laboratorio, nei laboratori, persone che rimangono sveglie durante la notte e che vegliano sul sonno di chi dorme. Due mondi, in qualche modo, che coesistono, due mondi che non sono distanti, perché ovviamente chi studia il sonno osserva da verso gli strumenti il sonno di chi dorme durante il suo svolgimento. L'accadere si può raccontare in molto modo. Probabilmente il più esemplificativo, ma ce ne sarebbe una lista lunghissima, è quando noi registriamo nei laboratori i pazienti particolari, vengono chiamati, o meglio il disturbo di cui sono affetti, viene chiamato disturbo comportamentale del sonno REM, in alcuni casi si dice, per sintetizzare il loro disturbo, che mettono in atto i loro sogni. E queste persone, quando entrono in questa specifica fase del sonno, esibiscono, è legata alla loro patologia, una intensa, spesso violente, disarticolata attività motoria. Noi li vediamo, li vediamo attraverso la videocamera di infrarosso, li vediamo attraverso gli strumenti. Ma l'aspetto più interessante, per quanto riguarda la dimensione dell'accadere, è che se poi uno li sveglia e li interroga, trova una descrizione di sogni fatti a cavallo dell'episodio violento, notorio del loro sonno. E il loro sogno è aggressivo, in qualche modo, quello che qualche minuto prima noi abbiamo visto in videocamera, negli strumenti, poi ci viene restituito dalla narrazione dell'episodio nitico, fatto dal paziente stesso. La domanda relativa a quanto e come quello che accade nel sonno e nel sogno influenzi la vita quotidiana diurna, ovviamente deve rimandare a una ovvia bidirezionalità. È ovvio che la vita diurna influenza la vita notturna, è ovvio che la vita notturna influenza la vita diurna. Ma per quanto riguarda la capacità della vita notturna, del sonno influenzare la vita diurna, molto banalmente, e molto, per certi versi, purtroppo, ovviamente, una cattiva qualità del sonno, o specifica alterazione del sonno, determinano, purtroppo, durante la veglia, un quadro molto articolato di patologie. Per certi versi è più interessante come gli accadimenti, non tanto della vita durante il sonno, ma della vita umidica durante il sonno, dei sogni, hanno poi una traslazione della veglia, nella vita diurna. È probabilmente semplificativa il racconto distribuito nella letteratura, nell'arte della scienza, di creazioni, opere artistiche, scoperte scientifiche, maturate nel sogno, cioè nelle loro biografie, famosi personaggi, hanno descritto che quello che poi loro hanno realizzato sia stato concepito nel loro sogno. È solo a memoria. La tavola di Medelev, degli elementi chimici, che almeno a me ha torturato nella chimica liceale, è stata vista, partorita dallo scienziato russo nel sogno. E saltando dalla scienza alla letteratura, Jekyll Hyde di Stevenson, ugualmente la trama è stata, sarebbe stata, partorita nel sogno. E saltando dalla letteratura alla musica, la suonata per violino di Tartini, il trillo del diavolo, identicamente, è stata creata, concepita, vista durante i sogni. Sono in qualche modo un esempio molto forte di come i confini fra il mondo del sogno e il mondo del pensiero di veglia siano, attraverso queste semplificazioni per certi versi paradigmatiche, spesso molto labili. In questo caso, evidentemente, è un travaso virtuoso quello che avviene tra quello che accade nel sogno, che poi va a riverberare la scoperta, la creazione durante la vita di una.